Buonasera a tutti, sono da un diretto a Veneto, l'ho accolto, l'invento che mi è stato rivolto da Medicina Democratica per intrattenermi una mezzaretta con voi sul argomento che mi è stato previssato ed è il discorso relativo ai disami dei gradi, nel senso di vedere un attimo da vicino quali possono essere le cure da sviluppare a domicilio. Mi sono riletto mentre venivo oggi pomeriggio qui la parte motivazionale del percorso formativo che state frequentando, dove si dice che occorre frequentando questo percorso formativo prendere in considerazione le decisioni e le proposte dell'assetto sanitario in Regione Lombardia perché dalla conoscenza poi si possono cogliere i nodi critici le benintenzioni di cui anche il perno è nastricato che sono schizofreniche rispetto alla realtà e perché la realtà la venga mutata soltanto attraverso il protagonismo degli utenti, il protagonismo delle persone che soffrono, il protagonismo delle persone con disabilità. E al domicilio? Al domicilio è interessante la cura e l'assistenza a domicilio perché è un'aspettativa di tutte le persone, io stesso che mi avvicino ad un'età che non è più quella dei giovani anziani ma è quella dei grandi anziani, quando penso a quelli che saranno i miei ultimi giorni o alle mie ultime settimane, le mie ultime stagioni, l'idea di andare a finire i miei giorni in un'istituzione che si sostituiscono totalmente alla famiglia. mi fa la prevedere, ma questo non so se è una situazione mia viscerale o se è una situazione che porta alla riflessione manumana che si va avanti nell'età e quindi è molto interessante vedere tutto quello che si può fare, che si deve fare perché la persona rimanga il più lungo possibile per le esigenze di cura e di assistenza al domicilio, perché è un ambiente nella quale si identifica la persona, l'identità della persona, l'identità personale è nell'ambito della socializzazione primaria, che è lì, siamo nati lì, siamo vissuti lì, abbiamo fatto tutte le nostre esperienze, gran parte delle nostre esperienze, forse lì vorremmo anche finire i nostri giorni e avere quindi la cura e l'assistenza al domicilio e l'esigenza poi diventa pregnante quando non c'è il semplice raffreddore o qualcosa che è un buscolino che è entrato nell'occhio, quando ci sono delle attenzioni croniche. Nel confronto delle quali bisogna curarsi, probabilmente, perché sono croniche, non è detto che sempre si guarisca, anzi probabilmente quasi mai si guarisce nel senso di avere la piena, la pienezza della vita che avevamo prima nell'insorgenza delle patologie croniche, che però bisogna curarle e allora, soprattutto, ecco, bisognerebbe fare in modo, bisogna fare in modo che a domicilio si faccia assistenza e cura anche quando ci sono le malattie croniche, però bisogna avere consapevolezza, coscienza dei limiti che il domicilio ha strutturalmente per rispondere, anche quando siamo portatori di malattie croniche, per coscienza dei limiti, perché può essere un luogo di cura, dobbiamo classificarlo come luogo di cura, ma in determinati limiti, per dire che il fattore variabile della gravità è una discriminante, fino ad un certo punto di gravità che richiede determinate prestazioni, ebbene il domicilio è praticabile, ma quando ci sono certe forme di patologie gravi, il domicilio può non essere il luogo ideale per curarsi, quindi la discriminante, la variabile della gravità, ma anche la logistica, gli spazi, perché non tutti hanno delle case così confacenti senza barriere architettoniche, senza barriere d'uso, insomma, dove si può giostrare, possono giostrare i vari operatori che entrano, ci sono anche degli spazi angusti, in molte abitazioni principali, che di per sé impediscono la cura, l'assistenza, la cura di determinate persone gravi, la variabile quindi della logistica, e la presenza della figlia nobile, della figlia nobile, che è vocata nella relazione con i fratelli a dedicare la propria attenzione all'assistenza del genitore, della genitrice, la figlia nobile, che ha questa vocazione secondo la cultura nel rapporto e nelle dinamiche intrafamiliari, per cui il figlio maschio, il figlio che vive lontano, può tranquillamente continuare a vivere lontano, c'è tanto, c'è una figlia nobile che, però il caregiver, quando c'è chi è, che cosa è in grado di fare, però la figura del caregiver, la figura dell'accudiente, è una delle variabili, sussistendo le quali si può pensare, anche in condizioni di gravità, di portare avanti l'assistenza della cura al domicilio. E però dobbiamo anche dirci che, tutto sommato, non esiste nessuna legge che dice che istituzionalmente la famiglia deve affrontare la questione dell'assistenza della cura a domicilio. Ma chi è il preposto, la realtà preposta, preposta alla cura domiciliare, la famiglia? Dove sta? Chi l'ha detto mai? Ripeto, da un punto di vista giuridico, formale, non esiste, non esiste. Esiste la sociologia familiare, esistono gli impegni dei figli nei confronti dei genitori, così come rimalzano da parte dei genitori che hanno fatto tanto perché i figli potessero essere istruiti, potessero crescere, potessero avere il necessario nella vita per quello che la famiglia può fare, perché è una società anteriore, ma è una società perfettibile, che ha bisogno anteriore, ma ha bisogno di un aiuto e di un sostegno senza del quale è imperfetta, imperfetta di fronte a queste problematiche. E quindi istituzionalmente chi è preposto? Allo scolto di signale è preposto il comune, ed è preposto il distretto dell'Avio, che è l'ambito territoriale. I comuni si ritrovano nei 98 ambiti territoriali in regione Lombardia. Il medico di medicina generale, che è il medico curante, che è il medico di intera scelta da parte degli utenti. Ma per fare cosa? Il comune che cosa dà? Ecco, comincio a descrivere quello che è scritto in tutti gli atti amministrativi dell'origine. Il comune deve dare il pasto di domicilio, laddove una persona non riesce più a stare dietro a queste esigenze di alimentazione, e quindi deve dare anche quegli atti quotidiani di vita che compone le esigenze di cura primaria, lavarsi, vestirsi, eccetera. E quindi l'ASA, che interviene con determinate incombenze, l'ASA cura più l'aspetto intervieristico, dall'aspetto fisioterapico, di cura infermieristica, fisioterapiche, gli aspetti quindi dell'assistenza domiciliare, sotto il profilo infermieristico, e il medico, il medico di medicina generale, perché non può aspettarsi che ad un certo punto, da parte di una persona con lezioni croniche, tutte le volte chiami, ma il medico di medicina generale ha questa possibilità, perché è previsto dal contratto dei medici di medicina generale, di realizzare l'ADP, l'assistenza domiciliare programmata, perché va a bussare dal direttore del distretto e dice che ho un mio assistibile che ha queste affezioni croniche, darmi un compenso aggiuntivo rispetto alla quota capitaria, perché io ti dico che vado una volta alla settimana, senza che lui mi chiami, perché ho bisogno di mantenere contatti continuativamente, l'assistenza domiciliare programmata. E come si accede all'assistenza dal cura domiciliare? Come si accede? A seconda che il soggetto sia in costanza di ricovero, o non sia in costanza di ricovero, e quando è ricoverato, quando è ricoverato, la persona non deve essere selvaggiamente buttata fuori dall'ospedale. Ma c'è tutta una procedura, un protocollo previsto dagli atti amministrativi della regione, poi su questo nodo ci ritorniamo, per dire che, ripeto, ci sono tante cose interessanti, scritte che poi siano praticate, è tutto da dimostrare. Comunque è previsto un protocollo di dimissione non selvaggia, protetta quando si è ricoverati, e si è di fronte ad un'esigenza di assistenza continuativa. Per cui mi sono recuperato, perché avevo un'affizione acuta, però questa affizione acuta si incastona all'interno di una serie di questioni di carattere cronico, degenerativo, per cui i miei problemi, non è che li ho risolti tutti, ne ho risolto una parte, perché l'affizione acuta mi è stata tamponata in un quadro clinico di continuità, perché incomodano le malattie croniche, e quindi c'è un protocollo di dimissione protetta. E quando siamo in presenza di malattie croniche e si è a casa, allora c'è una procedura per cui io vado dal mio medico oppurante e gli chiedo, senti, allora vediamo di compilare questo modulo, mandiamolo a distretto, lo ripetiamo, vado io, tu dammi il modulo, tu sei mio medico, e nel modulo dice che io ho una pensione che richiede assistenza domiciliare, e allora lo porto all'ufficio fragilità, all'ufficio A.I., l'assistenza domiciliare integrata all'Arle, e quindi si innesta da parte del distretto Arle la cura domiciliare. Ecco, vorrei, si ancora brevemente, supermarchi sul protocollo di dimissione, protetta, dimissione dall'ospedale, dall'istituto di riabilitazione, quando la persona appunto è attenta da patologie croniche. Guardate, chi è all'interno degli ospedali? Un conto è il reparto di medicina, un altro conto è il reparto di chirurgia, perché se trovate qualcuno con peso sullo stomaco, che si pronuncia, sta fregando, se in me, della continuità assistenziale, fuori di qui, perché il posto letto deve venire, devo tagliare io, chirurgo, e chirurgo, perché in genere, mi si dice, e ho toccato anche un mando, che nei reparti di medicina si ha maggiori grandi comprensioni, no? E quindi anche lì dentro ci sono quelli che sono più attenti al rispetto all'attuazione del protocollo di dimissione protetta, che non altri reparti, soprattutto quelli di, 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 di chirurgici, che proprio della dimissione protetta non vorrebbero mai occuparsi, perché allora incontre l'ingresso di altri nuovi utenti nei confronti ai quali bisogna intervenire, ed è un intervento urgente, assolutamente, prioritario rispetto alla linea di continuità di colui il quale dovrà andare avanti con l'assistenza domiciliare, uscendo, lasciando lì per il posto letto. Quindi, la continuità assistenziale, soprattutto quando si ha a che fare con persone anziane in un'autosistenziale, possono avere, possono avere una o più di queste patologie, no, che hanno a che vedere con le malattie della pelle, con la reazione sensibile a determinate sostanze, con le malattie dell'apparato osteoarticolare, con le malattie della respirazione, del sistema nervoso centrale periferico, con le patologie anziane del visus e dell'udito sensoriali, quindi del cervello, del cuore, della circolazione del sangue e dei liquidi biologici e il dismetabolismo perché il corpo è pieno di tante gli andoli e intanto qualcuno è destinato a avere la funzione e la migliora dei modi e quindi le funzioni dismetaboliche, la continuità assistenziale è un'esigenza che non si può eludere, che non si può eludere, l'ospedale quando è bene, però come l'inteso l'ospedale dentro o fuori in un arco di pochi giorni, eccetera, per una persona che ha delle patologie croniche, risolta, tamponata, la questione dell'affezione è acuta e poi la vita continua e deve continuare possibilmente nel migliore dei modi e di fronte al primario o alla coordinatrice di reparto, coordinatore di reparto che dicono fuori di qui a non interesse per il dialogo dove che pare lasciate libero il posto bisogna forse, bisogna forse, quindi quello che non è scritto da nessuna parte nelle delibere della giunta regionale che bisogna forse, però lo diciamo noi qui perché se lo diciamo qui prendendo coscienza del schizofrenia esistente tra le cose scritte e le cose praticate non vedo dove possiamo altrimenti dirlo, quindi non c'è scritto da nessuna parte però lo dico che laddove ci si oppone con una lettera motivata, ben motivata per dire bisogna innestare il protocollo di missioni protette di rifiuto di essere smettuto fuori da un'ora all'altra da un giorno all'altra perché devo lasciare il posto ad altri eccetera nell'esperienza nelle poche moltissime esperienze in cui l'opposizione è stata motivata nessuno è stato mai buttato fuori senta già niente hanno incominciato a riflettere sul rischio che corrono nella non assistere a una persona che non è grado di guardare se stessa specialmente se questa opposizione la vanno chi cura gli interessi delle persone che è ricoverata il reparto ospedaliero quindi per fare la dimissione protetta ha il dovere di relazionarsi con il distretto ASL mentre ancora in corso il ricovero in costanza di ricovero si deve relazionare con il servizio facilità perché la persona se deve essere assistita in linea in continuità deve essere presa in carico e quindi bisogna con la persona sviluppare la valutazione multidimensionale sul profilo sociale sul profilo sanitario assistenziale quindi una valutazione multidimensionale della persona in costanza di ricovero e quindi quando la persona non è recuperata invece dicevo è il medico che prepara che compila un modulo che viene consegnato a chi ne cura gli interessi e consegnato appunto al servizio facilità distretto ASL perché così si richiama l'attenzione dell'equip di valutazione multidimensionale perché faccia la valutazione della persona della persona e la conclusione di questa valutazione è l'elaborazione di un progetto di un progetto individuale dal progetto individuale poi può scaturire l'esigenza del pasto domicilio l'esigenza di un ASA che vada a casa a pulire casa ad aiutare la persona a farsi il bagno a muovere un po' eccetera quindi competenza del comune che ha bisogno invece può venire fuori della valutazione multidimensionale il progetto individuale può venire fuori l'intervento dell'ASLA del servizio dell'ASLA per le esigenze più sanitarie e quindi infermieristiche fisioterapiche a domicilio come l'ASLA arriva il personale incardinato nel distretto A no perché l'ASLA il distretto fa il PAC fa la programmazione l'acquisto e il controllo il PAC programmazione acquisto controllo per cui si appare i soggetti ha esternalizzato questo servizio e ci sono dei soggetti gestori per lo più si tratta di forme giuridiche non lucrative sono delle cooperative sociali che gestiscono servizi socioassistenziali socio-sanitari e però qui c'è l'ideologia formigoniana che entra in funzione nel senso che la persona la persona alla persona assistibile viene consegnato un elenco di 30 cooperative sociali che agiscono nel suo distretto nel suo ambito più o meno ampliato e deve in omaggio al criterio della libera scelta scegliere chi più secondo lui aggrada la libertà di scelta è compatibile con la capacità di scelta se la prima o l'ultima o quella intermedia fra le tre sono indifferentemente delle illustri sconosciute non so come possa gestire la libertà di scelta senza una capacità di scelta e però bisogna essere in linea con questa esigenza non ti impongo nulla tu scegli sulla base del tuo gradimento certo che io sono per me è greco segno così a occhi chiusi perché uno va nell'altro il soggetto è gestore dell'Adi quindi si innesta sul progetto individuale fatto dall'unità di valutazione multidimensionale del distretto si innesta e realizza un vero e proprio piano di assistenza individualizzato che dura un mese per rinnovare due mesi a seconda della gravità della situazione in un certo periodo e poi se si ripresenta la situazione nella sua dimensione di cronicità e quindi viene reiterato in un traccettino di può essere reiterato e quindi il soggetto gestore scelto dall'utente si innesta sul progetto individuale e lo traduce operativamente nel piano ecco il piano quindi deve essere approvato dall'utente perché nulla si dice giusto che debba essere fatto sulla testa della persona assistibile ma deve essere deve recare deve esserci la firma sottoscritta da parte della persona assistibile di chi le cura i interessi servizio viene attuato mediante gestore in appalto e qui siamo al comune la diciamo così la formula della libertà di scelta non la adotta il comune forse perché è più vicino alle esigenze immediate delle persone è il comune che non ti manda l'ASA dipendente dal comune anche lui è esternalizzato però ogni anno che cosa fa un bando e a questo bando si iscrivono determinate cooperative e chi vince il bando poi gli operatori di quelle cooperative insomma è il soggetto ente gestore appaltato dal comune che mette in campo l'ASA o l'operatore socio-sanitario per andare a fare alcuni mestieri a casa e svolgere questa funzione di accudienza devo dire che questa realtà del SAD per il comune dell'AVI SAD è stata servizio di assistenza viciliare l'AVI assistenza viciliare integrata gestita dal distretto ARLA riguarda anche le persone condizioni indipendenti che sono delle persone portatrici di con disabilità gravissime che però non c'è vero lucido e quindi che hanno delle come si può dire delle disabilità di ordine fisico-motorio e però non sono disabili intellettivi e in relazione al fatto che sono in grado loro sì di scegliere come vivere dove vivere con quali supporti vivere anche escludendo il caregiver familiare per andare a vivere autonomamente e quindi ecco che è un'assistenza d'alcune dove ci viene praticata anche nei confronti di queste persone che giustamente pretendono e esigono di non avere il cappio al collo e di poter scegliere la modalità di vita indipendente anche escludendo l'apporto familiare persone con disabilità quindi fisico-motorio è grave gravissimo è in grado però di elaborare essi stessi attuare autonomamente proprio il progetto di vita indipendente e qui cominciano con qualche commento di carattere più critico propositivo perché la prima è che mi ha sentito queste cose io stesso lego rilego queste atti amministrativi e se uno si lascia abbassinare da quello che è scritto così tra volanti può pensare Dio adesso abbiamo risolto la panacea di tutti i nostri mali e la realtà ci dice alcune cose che stanno che stanno diversamente da questo abbaglio non bisogna lasciarsi abbagliare sono esaustivi comincio a prendere a pormi questa domanda me la pongo questa domanda queste cure questa assistenza al domicilio a esaustivi intanto vediamo qual è stato l'andamento e questa fonte che cito che qui non si legge molto perché siamo nel tratto non bianco questa fonte che ha preso in considerazione l'abilità della Lombardia dell'Adi qui lasciamo stare per un momento il SAD però l'Adi quello che fa la regione attraverso le asole attraverso gli ambiti territoriali quindi attraverso i distretti non non brilla secondo una logica incrementale ma qui c'è un decremento quindi gli anziani ove 65 anni con più di 65 anni assistiti in assistenza domiciliare integrale nel 2010 era del 427 che poi è passato a 414 nel 2012 poi è vero e li vedremo un attimo ancora ci devo ancora 5 minuti 6 minuti ce la facciamo allora 3,97 probabilmente questo 3,97 risale di un po' perché ci sono state delle ultime delibere gli ultimi due anni dopo il 2012 quindi il 2013 il 2014 che hanno ci sono delle misure che hanno portato un lieve incremento dell'attività però c'è una tendenza in questi anni un decremento dell'attività di assistenza domiciliare poi c'è quest'altro aspetto qualpistico che è determinante se è vero che le persone con disabilità con disabilità grave gravissima che sono presenti nello scenario da assistere perché sono grave gravissime inferiore 65 anni sono 37.000 quasi 38.000 se è vero che quelli che hanno più di 65 anni sono 380.000 poi andiamo a vedere quello che dice la regione lo dice in questa delibera da 116 avete presente la norma 37.000 28.000 altri 9.000 sono fuori da questo circuito dei soggetti inferiori ai 65 anni non hanno né SAD né ADI eppure sono disabili con disabilità grave gravissima e quelli superiori che con un'età superiore ai 65 anni assistiti che risultano assistiti poi vediamo che sono assistiti sono 94.000 oltre i 380.000 94.000 SAD ADI siamo in transito no dicenti scusa questo è parlato di Lombardia 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 di ore settimanali cosa mi dà questo alla settimana dalle 2 alle 6 ore settimanali per le persone con maggiore gravità si arriva a 6 ore ci si può attestare per cui le altre ore della settimana come si fa a giustare in casa la persona con disabilità gravissima non solo ma gli stessi atti amministrativi della regione dichiarano che ci sono 60.000 persone bisognose di assistenza che sono assistite esclusivamente dal capire familiare dalle famiglie ma abbiamo appena finito di dire che le famiglie da un punto di vista giuridico formale non hanno obblighi di assistenza ma nella realtà dei fatti se non interviene l'istituzione non si può ci auguriamo una persona senza assistenza in casa e allora la figlia 60.000 anche quella sposata quando non c'è quella lombia ma anche la sede tutte le altre donne ma anche la sicilistina ma anche la sicilistina anche la sicilistina anche la sicilistina per cui per cui la cura d'omicidio viene completata e laddove non arriva non arrivano familiari arrivano le cosiddette badanti l'assistente familiare che non è grande sono re dei ma costa e quante sono le badanti in regione lombardia sempre questa delibera della giunta regionale 116 qui non si legge dice che le badanti si fanno a stima perché ci sono quelle in nero ci sono quelle in nero un po' meno quelle in nero si stima che siano 126.000 che direi significativo poi delle sborsi del pagamento del costo dell'assistenza privata e quanto costa guardate qui ho scritto queste cifre trascurate perché sto sparando dei numeri che probabilmente sono approssimati per diveto non per eccesso perché sono queste cifre a seconda delle ore giornaliere 1300 2700 o anche di più dipende dalla gravità delle esigenze ma sono delle sperme sono assistenza privata di cura ecco le funzioni vitali la badante è in grado alcune funzioni vitali sì che sono respirazione cioè respirare la nutrizione che tipo di nutrizione non è alimentazione nutrizione ad equazione di inizio e laddove sono in grado anche le funzioni primarie come mobilizzazione alzarsi vestirsi lavarsi alimentarsi però non possono improvvisare nulla ma devono essere istruite ci vuole la guida del premier che faccia determinate cose il verticio terapista eccetera eccetera comunque comunque si rendono utili al di là della presenza fisica con queste forme di sostegno che sono particolarmente onerose e essendo così particolarmente onerose è nato un processo ma è l'impoverimento delle famiglie che è solo parzialmente attenuato e quindi concludiamo sulle misure perché probabilmente anche la regione si è accorta che questo processo è in atto e naturalmente sta cercando di estendere l'assistenza domiciliare integrata e il sardo con la monetizzazione della cura e dell'assistenza domiciliare dando qualche soldino in più e quindi le ultime delibere qui le cito la 28-26 il 26-55 del 2014 quindi che prevede una misura che è quella per i disabili gravissimi per persone anziane fino a 69 anni di età l'anno precedente era 65 ora è portata a 69 con disabilità gravissima che sono quelle in dipendenza di dare non di risolvere respirazione e evacuazione che richiedono assistenza quindi continuativa 24 ore su 24 questa misura B1 prevede vede come destinatari alcuni soggetti quelli che sono in spelerosi laterale amiatrofica quindi gravi patologie cronico degenerative gravi demenze e poi gravissime disabilità psichiche multipatologiche cerebrolesioni gravi stati vegetativi quando ricorrono queste patologie ebbene c'è un buonomissile che non prende in considerazione la condizione economica della persona e viene dato un buonomissile di mille euro alla famiglia la misura B2 non riguarda gravissima ma riguarda i gravi quello che riguarda bisogno di essere assistiti nelle funzioni non vitale nelle funzioni primarie alzarsi vestirsi fare il bar muoversi un po' la mobilità eccetera una disabilità grave gli anziani non autosufficienti e buono sociale e qui c'è un buono sociale che può arrivare fino a 800 euro mensili però che sulla base dell'IS sulla base dell'indicazione economica perché qualcuno può essere concesso 800 ma anche 300 400 eccetera in relazione alla condizione economica della persona misura B2 quali sono i destinatari sono per i progetti di vita indipendente quindi questo buono di 800 per uno che ha un progetto in atto viene garantito diciamo così i contributi di sollievo di sollievo perché se il caregiver ad un certo punto impazzisce bisogna di dare che impazzisca insomma e se la persona viene assistita a domicilio oppure in recuperata temporaneamente per dare un po' di respiro al caregiver ebbene per sovvenire a queste esigenze da un punto di vista economico si dà fino a 800 euro poi il ripotenziamento del SAD quindi le due ore possono diventare tre ore quattro ore insomma si raddoppiano le quattro ore piuttosto che due il voucher sociale per se ci sono problemi di lavanderia e stirrerie il voucher sociale per i minori non autosufficienti che hanno delle problematiche e quindi concludo sulle aree critiche dell'assistenza a domicilio aree critiche tanto detto prima non lo ripeto soltanto se c'è una presa in posizione precisa connettela alla comandata mandata al direttore sanitario dell'ospedale al direttore generale per dire per questi motivi io mi richiuto di poter porre il mio parente perché bisogna ha bisogno della possibilità assistenziale quindi non potete buttarlo fuori in questo modo mettete in atto la divisione protetta e ne ragioniamo e ne ragioniamo quindi la lettera di di re-iniezione dell'intenzione manifesta di missione sinfaggia difficoltà nella prossima l'unità IP vedete che l'unità di valutazione multidimensionale non è tutta del comune non è composta da funzionari comunali da operatori comunali per intero non è composta da operatori per intero dell'Aso ma se c'è un medico geriatra se c'è un imperiero lo mette in campo l'Aso se c'è un assistente sociale lo mette in campo il comune e quindi mettere in campo diversi operatori che provengono da ambiti istituzionali diversi significa far loro compiere un lavoro secondo un modello un approccio unitario che è la cosa più difficile di questo a volte sembra scontato ma non lo è per niente scontato questo è un modo critico e se poi interviene anche la caposala di quella coordinatrice di quel determinato reparto che vuole attuare la divisione selvaggia vi raccomando insomma perché abbiamo ospedale AS un'unità di valutazione multidimensionale il comune per approdare a Nandi per approdare a Sard quindi tre istituzioni che più delle volte si ignorano e che invece devono lavorare in modo sincronizzato l'altra questione e su cui ho già fatto nel commento la parzialità della presa in carico perché se la presa in carico vuol dire soddisfare se non al 100% all'80 al 90% i miei bisogni rimanendo nell'albeo familiare allora la presa in carico non è la presa in giro la presa in carico è la presa in carico perché quello di cui ho bisogno mi viene riconosciuto e ho un'assistenza compro confacente appropriata ma quando si parla di due di sei euro capite che poi c'è anche qualche mille euro in più d'accordo ma siamo ben lontani dal soddisfare le esigenze attraverso l'intervento delle istituzioni a domicilio in forma sincronica e quindi significato la presa in carico la presa con le molle il processo di impoverimento delle famiglie perché chi ha a che fare con la guadrante chi ha a che fare in un progress poi con le rette perché ad un certo punto probabilmente la persona non potrà più essere curata a domicilio ma dovrà passare in una RSA aprite il cielo perché le rette dell'RSA le raccomando le raccomando quindi il processo di impoverimento delle famiglie e poi il fatto che quando ci sono le malpie croniche di mezzo l'accudiente e poi non soltanto va a ritirare la pensione perché ha la delega e quello è così un po' in sommato però bisogna andare in tribunale bisogna parlare con i giudici tutelare devo presentare istanza per essere nominato amministratore di sostegno devo poi mandare la persona in RSA perché non ce la faccio più tenermi a casa e quindi devo andare a fare l'ISE ma se l'ISE poi è fatta in un certo modo e vado a chiamare in causa anche la componente aggiuntiva ne ha parlato Franco Treveschi una volta scorsa penso che abbia parlato di queste cose anche questa faccenda dell'ISE e se poi vado in comune che mi tratteno con i pesci in faccia quasi fossi un povero per cui chiedo un contributo mentre vado a chiedere l'integrazione della retta che è prevista dalla legge per colori quali non sono in grado di pagare interamente la retta è l'assistente sociale che è più realista del re e quindi basta così basta sembra che se c'è d'altro sembra che intervista grazie